Allora, sono quasi convinto che la luce ancora un po' c'è, quindi con questa poca luminosità dovremmo esserci leggermente in penombra, ma ci piace. A tutti ragazzi, io sono Andrea Doraz, o semplicemente Doraz, e benvenuti in questo nuovo video. Sigla! Oh, come sempre sono in mega ritardo! Ma, perché? Prima di cominciare, per chi non mi conoscesse, per chi mi vuole conoscere, per chi mi conosce, eccetera, vi lascio qui sotto tutti i link per seguirmi su tutti i miei social. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, ma importantissimo, come dico sempre, iscrivetevi a YouTube, se non l'avete ancora fatta, mettete like al video, non fate i bigri, fatelo per favore, perché queste sono cose super importanti per noi che facciamo questi video, se volete supportarci, a prescindere da quello che dirò in merito a questo video. Quindi se semplicemente vi sto simpatico, like! Se non vi sto simpatico, dislike! Comunque creiamo un po' di realismo in questo canale. Allora, oggi è un parliamo di... E' un po' che non facevo un parliamo di, ma perché? Perché, come sapete, il parliamo di sono quelle specie di pseudo recensioni che faccio su un determinato argomento specifico, e quindi, insomma, non è proprio una vera recensione come altre cose, ma perché, soprattutto per le serie TV, non mi piace fare delle recensioni nel dettaglio. E quindi, come sapete, anche io con le serie TV ho un rapporto un po' così, un po' amore-odio, perché ne trovo particolarmente pesante, diciamo così, tra virgolette, perché stare dietro a una serie TV, che magari ha anche tante stagioni, è veramente una roba tossa per me. Non so perché, non me ne vogliate, vedo solo quelle che proprio mi interessano tanto, e magari anche alcune che vengono considerate dei capolavori assoluti, io non le ho viste. Anche perché io sono più per il cinema, quindi se proprio devo andare a recuperarvi qualcosa che penso che possa essere utile per la conoscenza generica del cinema, mi vedo un film, appunto, del cinema. Delle serie TV, meno, meno, molto meno. Finalmente, ho visto questa cavolo di serie TV, Monarch, Legacy of Monsters. Allora, perché ve ne parlo solamente adesso? Probabilmente questo video non lo parlerà nessuno, perché ovviamente, se non andiamo in tendenza, non ci si caga a nessuno, ma, ma io voglio comunque parlarvi, perché come sapete, a me non interessa quello che tutti vogliono parlare, tutti dicono, tutti vogliono parlare, io voglio dirvi quello che mi piace, ok? Quindi, quando un giorno sarò un famoso, io sarò diventato famoso perché vi dico le cose che mi piacciono, e le condivido con voi. E quindi, se voi avete le mie stesse passioni, le condividete con me e viceversa. Quindi, vi invito a scrivere sotto nei commenti cosa ne pensate in merito a questa serie TV. È uscita, in realtà, già a novembre aveva cominciato la programmazione, ma siccome adesso ci sono milioni di piattaforme streaming, io non voglio regalare i soldi a tutte le piattaforme streaming, perché io già mi compro i film in Blu-ray, già pago 4-5 piattaforme streaming, quindi, insomma, diciamo che al cinema e alle case produttrici do il mio contributo. Va bene? Inoltre, non vedo praticamente mai i film illegalmente, quindi, se posso, pago eventualmente se dovessi vedere un film che proprio voglio vedere. Quindi, insomma, diciamo che da questo punto di vista sono ineluttabili, diciamo così, facciamo come le spolliciate di Thanos. Sono veramente inattaccabili. Proprio il resto potete massacrarmi su questo. E perché? Perché se io mi abbonavo a inizio, dovevo pagare, ho il TV Plus, tre mesi. Invece così, ho pagato una volta sola, anzi, per solito non ho abitura prestato, quindi non l'ho pagato, però diciamo che l'avrei pagato, come faccio spesso con Crunchyroll e altri abbonamenti, che poi disdico, perché se no stiamo a pagare 100 euro al mese solo per vedere una volta ogni tanto una cosa su Netflix, su Prime Video, su che ne so, e quindi ho fatto in questo modo, se non è la miglior cosa. In modo che così noi non diventiamo piattaforma streaming specifica, dipendenti, così siamo liberi, in questo senso. Secondo me io sono libero da questo punto di vista, posso dire. Nel senso che non ho bisogno di vedere tutti i mesi Netflix, tutti i mesi Prime Video. Vabbè, alcune sì, perché mi caccio, non le vedo sempre, ma insomma, avete capito che intendo, no? Ecco, quindi vi ne parlo solo adesso per questo motivo, perché ho aspettato che uscissero tutte le puntate in modo che mi abbonauso un mese a Apple TV Plus. Questa è un'idea che secondo me potreste prendere in considerazione tutti, per evitare di regalare i soldi. La pigrizia ci fa regalare i soldi, e non bisogna buttarli i propri soldi, che noi ci li sudiamo, almeno io mi li sudo. Vanno tutte queste ciance, perché se no non ci mettiamo sei ore, vi vado a parlare brevemente di questa Monarch, Legacy of Monsters. Che cos'è? Quindi tutto. Ovviamente potrebbe esserci spoiler, è in merito, però vediamo, vediamo un po'. Sicuramente qualcosa lo spoilerizzo. Spoilerizzo. Però cerco di andare all'inizio su un qualcosa, tanto perché se non l'avete mai vista sapete di cosa parlo. Monarch Legacy of Monsters, già il nome Monarch sarebbe dirvi qualcosa, tratta dell'associazione Monarch, un'associazione segreta, diciamo così, che si occupa di studiare questi esseri chiamati muto, i massivi organismi terrestri non identificati, come Godzilla per esempio, che sono sulla Terra e non si capisce bene perché, da dove vengono, per quale motivo esistono, eccetera. E quindi, insomma, vanno in giro per tutti i posti più sperduti a capire, a cercare di scoprire tutte queste cose su questi mostri. Ok? Perché in questo universo, ovvero il MonsterVerse, nel mondo ci sono questi mostroni giganti, anche in giapponese chiamati Kaiju, qui invece Titani, proprio all'americana. E quindi la trama di questa serie dovrebbe essere questa qui, ovvero incentrata sulla Monarch e sui suoi studi, diciamo così. Effettivamente in parte è così, nel senso che la storia si sposta su diverse linee temporali, ok? Una negli anni 50 circa, più o meno, comunque nel passato, diverso tempo nel passato, e una nel 2015, ovvero un anno circa dopo gli avvenimenti del cosiddetto G-Day, ovvero il Godzilla Day, immagino sia, ovvero quella cosa che è capitata a San Francisco nel film bellissimo Godzilla del 2014 di Garrett Edwards, ok? Quindi come collocazione temporale siamo prima di Kong Skull Island, che invece era ambientato negli anni 70, e poco dopo Godzilla del 2014, quindi nel 2015. Poi in realtà, nella storia abbastanza articolata, ci saranno dei momenti in cui è ambientata anche un po' dopo gli anni 50, tra gli iniziali del passato, diciamo così, della linea temporale passata. Quindi verrà un po' fatto un mix, perché la prima puntata inizia nel 2015 e nel 1900, insomma dopo, anni 60, se non sbaglio, qualcosa del genere, fine anni 50 e fine anni 60. Poi dopo torna indietro, ok? Perché c'è un avvenimento che verrà spiegato solo alla fine. Quindi questo è, e parla appunto di questa Monarch. Il problema, secondo me, di questa serie è molto, ci sono molteplici in realtà problemi di questa serie, a me devo dire sinceramente non è che vi hanno fatto i problemi impazzire, eh? Cioè, già il fatto di buttare come immagine promozionale Godzilla, che poi si vedrà veramente, veramente poco, per motivi di budget sicuramente, però insomma, mi sembra un po' una paracolata. Potremmo metterci un bel simbolo Monarch con qualche foglio, tipo quel Godzilla disegnato, non che proprio mi fa vedere Godzilla come se Godzilla fosse il centro di questa serie. Invece manco per il più, anche perché non si chiama Godzilla, si chiama Monarch e qui, insomma. La cosa che hanno secondo me un po' così, è che hanno voluto, per raccontare una storia lineare, diciamo così, una storia classica, ci hanno voluto buttare in mezzo alcune cose, alcuni personaggi che non sono mai apparsi nel MonsterVerse, e li hanno ricollegati ad alcuni personaggi che invece sono apparsi, ok? Un personaggio cruciale della storia sarà il personaggio che abbiamo visto in Kong Skull Island, ovvero il personaggio di John Goodman, che qui ha una piccola parte, interessante peraltro, che poi si ricollegherà a tutti i nostri protagonisti. Ripeto, secondo me, io posso dire la mia, io non l'avrei impostata così, avrei fatto una cosa un pochino più particolare, e magari avrei incentrato tutta la storia proprio su alcuni personaggi della Monarch, e avrei fatto vedere, non so, lo studio che fanno sui vari siti, sui vari avamposti, tutta una cosa un pochino più, come si può dire, enciclopedica, poi magari sarebbe stata una roba un po' pallosa, poi sarebbe stato molto figo vedere gli studi su queste creature, molte delle quali abbiamo visto in Godzilla 2 King of the Monster solamente per pochi istanti, io mi aspettavo qualcosa che riguardasse quei mostri che non si sono visti bene nel film, diciamo così, e per cui un film a stena donna sarebbe assurdo fare un film, su ormai molto, ma chi lo voleva vedere? Però magari in una serie del genere sarebbe stato molto interessante andare ad analizzare ogni creatura, magari anche facendo ogni episodio dedicato a un mostro particolare, a un sito particolare, ci buttavo in mezzo dietro qualcosa per far sì che loro dovevano andare in stabilità, che cazzo ne so, una cosa così sarebbe stato molto, ma molto più figo, secondo me. Magari sarebbe stato un po' tipico a livello di sceneggiatura, però sarebbe stata una cosa interessante. Qui invece, è ovvio che fare un film sulla Monarch sarebbe stato, secondo me, controproducente, perché è un po' troppo così. Però insomma, addirittura fare una serie di dieci puntate, dieci puntate, di cui metà, metà, sono loro che scappano, perché la Monarch li insegue, perché loro, cioè, non si capisce perché questi devono cagare cazzo e inseguirli tutto il tempo. E poi si sa, i figli di uno dei studiosi della Monarch, e gli nipoti di un altro studioso della Monarch, e questi li inseguono perché loro non devono sapere dei mostri. Ma che cazzata è? Ma che sensata sarebbe questa? Cioè, la storia di questa serie è totalmente fallace, secondo me. È veramente non ha senso. Questa società era più, io la vedevo nei film, più come un qualcosa che andava a studiare gli avvenimenti, cioè, Godzilla arrivava, distruggeva tutto, arrivavano loro che volevano studiare, che ne so, il liquido che aveva lasciato dietro, oppure la capoccia del muto, una cosa del genere. Non è una società segreta che non vuole mettere la luce, o no, o vuole tenere segreto i mostri. La gente, cioè, qui abitiamo in un mondo dove la gente dice, eh no, non è vero, Godzilla è tutto inventato, non esiste. Ma che cazzata è? Ma perché esiste gente che pensa una cosa del genere? Cioè, San Francisco è disintegrato, razza al suolo, ci sono video, dei telegiornali che mostrano Godzilla che combatte contro i muto, mostrano i normi, che... come fai a dichiar finto? Non si capisce per quale motivo nel mondo esistono dei complottisti di questo tipo. È vero che pure qui esistono, adesso il mondo a gente che dice che la terra è piatta, ma insomma, nessuno dà peso a queste cose. Qui invece, capito, proprio quasi il fulcro della monarch è quello di tenere a bada i mostri, non farli vedere, non farli scoprire, oppure informare la gente che esistono. Come se... come a dire... guardate che esistono i mostri, abbiamo un'applicazione che se arrivano noi vi mandiamo tutti nei bunker, così state sicuri. E quelli dice, eh, l'avete fatta scattare apposta, già non ci crede nessuno, non ci crederanno ancora meno, ma che cazzo dite? Oh, sono arrivati, hanno distrutto tutto, ma di cosa parliamo? Questa cosa non l'ho capita, veramente non si capisce, sarò stupido io, ma non ho capito il motivo per cui dovrebbero le persone pensare che non esiste una cosa del genere, visto che c'è la città che è distrutta, era disintegrata la città da questi mostri, e tutti hanno visto Godzilla per terra, svegliato, che si è svegliato e è andato nel mezzo al mare. Quindi tutte queste storielline qui che hanno voluto inserire, secondo me, sono campate così, tanto per far andare avanti una trama che non ha nessun senso, non è interessante più di tanto, o meglio, anche i personaggi protagonisti, tipo lei, che non mi ricordo come si chiama, è super fastidiosa, ha una faccia da cazzo tutto il tempo, e la storiella tra di loro, con l'altro figlio di lui, perché c'è sto scienziato che praticamente aveva due famiglie, in poche parole, che era il figlio di uno dei primi della Mona, che per cui vanno indietro nel tempo fino al 54, perché fanno vedere la madre del padre di questi figli che stanno nel 2015, ok? Che si incontrano, che non sapevano che fosse una famiglia tutta unita, che sono fratellastri, che il padre pensava che era tutto buono, e bravo, e carino, e invece era uno che sa chi è un malvagio, quando invece semplicemente sta a casa lì in ufficio a mettere i puntini per cercare i mostri, tutta sta cosa che vanno tenuti nascosti, vabbè, fino a un certo punto la posso pure capire, il fatto di non, insomma, cercare di non far impazzire le persone, no? Perché giustamente se tu dici, guardate che esistono dei mostri alti 100 metri, distruggono tutto, a gente che impazzisce, no? È ovvio che quello inizio ci sta, ma a un certo punto arriva Godzilla, distruggere tutto, il mudo, quello e quell'altro, basta, è inutile tenerlo nascosto. Anche in Godzilla nel 2014, all'inizio la Monarch voleva cercare di non far agitare la folla, e questo lo posso capire, ma non dopo, non dopo, non è possibile che dopo ancora c'è gente che pensa che non è vero, eh, questo dico, ok? A un certo punto loro avrebbero potuto dire, guardate, alla luce degli avvenimenti del 2014 è successo questo, e purtroppo i mostri esistono. Speravamo di dire di no, ma no, sono diversi anni che li studiamo, ma non era successo mai niente di così catastrofica, adesso mi pare che è scontato, quindi purtroppo la verità è questa. Cosa che poi fanno alla fine della serie, ma dopo dieci puntate, dopo dieci puntate. Quindi, per me la serie doveva essere totalmente diversa, come ho detto all'inizio, doveva essere molto meno puntate, e magari può confluire tutti i momenti interessanti in meno puntate, così potevi spendere meno soldi, magari una parte dei soldi che ti avanzavano la sfruttavi per usare più mostri, perché non è possibile che loro dimostri questa serie, se ne vedano tre, 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 faccio il segno del tre, e basta, e dico, uno è Godzilla, che abbiamo già visto, un po' poco per una serie che dovrebbe essere Monarch, la serie sull'agenzia che studia e mostra, insomma, ecco. Avrei fatto molto meno spy serie con tutte queste cose di loro che vengono inseguiti, che non si parlano, non si riescono a dire, oh, scusa, senti, guarda, so che tu sei figlia di questo tizio, facciamo così, 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 no, sei così, a un certo punto diventa subito losco, no, perché io sapete, io voglio rapirvi, e lei, oh, scappa, comprensioni complete, tutto il film, cioè tutta la serie loro si inseguono, si rinseguono, quello diventa cattivo, quello diventa buono, quello è buono, quello è cattivo, quello non si capisce, per cosa? Per nulla, per niente, perché poi alla fine, sono tutti boni, sono tutti, capite, che è un'articolazione della trama senza motivo, quando invece potremmo spuntare su certe cose che sono fichissime, per esempio, io ho apprezzato molto di più le scene del passato che le scene del 2015, sono molto più sensate quelle, sono molto più interessanti, ci fanno vedere delle cose che abbiamo intravisto, intrasentito, 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 qualsiasi cosa qualcosa di interessante, sul fatto che esistono veramente altri mostri oltre Godzilla, anche quello, purtroppo, però, poi, i momenti quelli del presente sono un po' più, le fanno due coglioni così, diciamo, in parole povere, perché l'assassore di questi qui è sì, carina, ma poi le serie soffrono, per me, io fate quello che vi pare, potete dire che le serie ormai sono arrivate quasi a livello cinematografico, io resterò sempre dell'idea che sì, sicuramente, tecnicamente ci si stanno avvicinando sempre di più, ma vengono dilungate in una maniera che è in esteso il tempo di tutte queste storie, che diventano lentissime, sono lente, come Napolenta, queste storie che raccontano le serie tv, sono lente, sono parlate, in una serie in cui ci sono, dovrebbero esserci dei mostri enormi che distruggono tutti, loro parlano tutto il tempo, perché tu sei mio fratello, non è vero tu sei mio fratello e mio cugino, quello è mio padre, quello è mio padre, cercamo mio padre, cercamo il cugino, cercamo lo zio, cercamo la nonna, cioè, ma due palle, ma non ci si regge, non si regge, non si regge questa storia, perché non è interessante, i personaggi non sono interessanti e non vengono scritti in maniera interessante. Qualcosina di interessante c'è, ma purtroppo ormai la serie sta finendo e quindi c'ha una, dieci puntate, così, che abbiamo visto in totale un'oretta di cose interessanti, dai, possiamo dire due ore di cose interessanti su dieci puntate da quasi cinquanta minuti, una, e non è possibile, non è possibile, ragazzi, non è possibile, c'è il personaggio di Kurt Russell che è interessante, ripeto, tutto quello che è collegato al passato è interessante, lo studio, a un certo punto, i spoiler, tutti i spoiler, loro vanno a scoprono che c'è una terra cava, ok? Perché c'era questa teoria, mi pare, proprio di John Goodman, del fatto che la terra fosse cava, cioè che all'interno della terra non c'era la terra col fuoco, col magma, ma c'era un altro ecosistema, e per raggiungerlo bisognava utilizzare questi tunnel, diciamo così, tunnel, che ti trasportavano, tra virgolette, in questo luogo misterioso. Molto interessante, che mi sembra che si era visto anche Jangozilla vs Kong, questa cosa, perché c'era soprattutto che Godzilla spara per terra e si infia dentro. Molto interessante tutto questo, tra l'altro è bellissimo il fatto che ci sia il figlio di Kurt Russell a interpretare Kurt Russell da giovane, e poi Kurt Russell da quando è grande, molto figa questa cosa. Poi gli attori non sono neanche male, gli attori sono tutti abbastanza bravini, ripeto, più quelli del passato che quelli del presente, ma insomma se la sono cava da tutti, e anche quando appaiono i mostri, fortunatamente gli effetti speciali sono abbastanza fighi, purtroppo però se ne vedono troppo pochi, quindi, quando poi loro scoprono che c'è questa terra cava, si viene anche a scoprire che chi rimane nella terra cava è il tempo all'interno, un po' tipo Inception, cioè il tempo sulla terra e poi quando si va nella terra cava è totalmente diverso, quindi se voi state nella terra cava per mezz'ora, è capace che tornate su e sono passati tre anni, capito? Per dire. Quindi questa cosa è molto figa, alcuni personaggi hanno un'età diversa da quella che dovrebbero avere, quindi si crea un qualcosa di molto fantascientifico, è molto figo secondo me. Anche la scena finale è molto figa, nonostante il Kurt Russell crepa che sei ore lì a vedere, oh Godzilla! Entrate, entrate! Godzilla, vedi? Oh, ci stai risucchiando! Entrate, entrate voi! Oh, non ce la faccio entrare! Se è stato sei ore in piedi a guardare Godzilla, entra dentro, guardi da dentro Godzilla, more come un cretino, che è proprio una cosa stupida. Però, ripeto, alcune cosettine sono interessanti di questa serie, ma secondo me troppo troppo poco, troppo troppo poco. Tecnicamente poi, nonostante, ripeto, la lentezza da serie tv, c'è stato fatto anche un lavoro interessantino in qualche momento, eh? Tipo la fotografia, per dire, sulle parti vecchie è più sul giallo, più si coloria, più vecchi, diciamo così, sul marrone, sfumature del marrone e del giallo, mentre quelle, nel presente, sono più sull'azzurro, sul grigio. Quindi, anche da questo punto di vista, è stato fatto comunque un lavoro interessante. Per me il problema di questa roba è proprio la scrittura generale. Anche quello che viene tenuto in quella, in una carta rossa che viene tenuto in quella, l'ospizio, che sta lì così seduto, a un fancazzo, che c'ha il chip sulla caviglia. Ma che furdino? Ma che so ste cose? Cioè, non si capisce proprio, è totalmente fuori dal Monsterverse queste cose che si vedono. È vero che non le avevamo viste perché la Monarch non veniva ben mostrata, ma insomma, se devono mostrare ste cose così, che ognuno fa il sotterfugger, il giochetto, il gioco di quello, quello che frega quello, che frega... ma che è? Ma che cazzata è? Ma è una stronzata? Io non mi è piaciuta da questo punto di vista la serie. Mi è piaciuta per altri motivi. Per esempio c'è una scena bellissima, quella in cui loro si rincontrano, quindi Keiko, ovvero la nonna dei nostri protagonisti giovani del 2015, e Kurt Russell, che loro avevano, diciamo così, lei ha fatto i figli con quell'altro, però pure loro un pochetto si piacevano. È bellissimo quando si rivedono che lei lo rivede vecchio, quando erano coetanei, praticamente. Quindi ci sono dei momenti sicuramente belli, interessanti, anche quando ci viene mostrata la paura delle persone rispetto a quello che è successo nel G-Day, nel 2014. Però, boh, non lo so, alcune cose sono un po' tirate così, e non mi ha fatto per niente impazzire da questo punto di vista. So che faranno un'altra stagione, e io spero che una seconda stagione non è che deve essere come ho detto io, perché magari, come ho detto io, si romperanno le palle tutti, anche se secondo me è una figata, dovrebbe fare una cosa diversa. Però magari qualcosa di incentrata più su questa leggenda dei mostri, che a me non è più una leggenda, perché i mostri esistono, lo sanno tutti, dal 54 quasi, lo sanno tutti, tra virgolette, o comunque nel 2014 lo sanno tutti, stiamo 10 anni dopo, vediamo un po' di smuoverci e agganciarci a tutte le situazioni che ci sono reali, perché ormai, nel 2024, quando a Kong, muo che esce Kong, quello nuovo, Godzilla e Kong contro il primo impero, il nuovo impero, come lo chiamano, lo sanno tutti che esistono i mostri, cioè ci sono proprio delle basi per tipo al mondo, si è visto Kidoran, si è visto Rodan, si è visto Motta, si sono visti Emoto, si sono visti tutti i mostri, quindi di tutti si sanno che esistono questi mostri, e quindi cercheranno, spero, di farlo vedere un po' più mostri, magari fai meno puntate, più mostri, più azione, più ci fanno vedere come è strutturata la Monarch, magari anche in maniera un po' di da scarica, però comunque che ne è interesse in questa cavolo di Monarch, che sennò rimane una cosa proprio da filmettino, da azione, così, proprio becero, non lo so. I personaggi, per favore, che parlate tra di voi, in modo che così non creiamo sei ore dei seguimenti, che poi dicono, vabbè, alla fine è vero, tutti amici sei morto, è vero, mi sembra una cazzata. Quindi, mua, io vi mando un bacione, spero che vi sia piaciuta questa mia, un po', così, un po' incavolato, ma sono incavolato non perché sia così brutta la serie, ma perché mi aspettavo qualcosa di più interessante, ecco, questo voglio che arrivi. E quindi niente, ripeto, spero che vi sia piaciuta questa mia analisi della serie, che comunque non è una serie brutta, se proprio vi devo dare un voto, vi darei un 6,7, 7, dai, diciamo così, se proprio vogliamo essere buoni, però non di più, non oserei dare di più. Perché? Perché dal punto di vista di tutta una serie di cose, come la scrittura e la complessità di questa trama, che però in realtà non dovrebbe essere così complessa, e il poco utilizzo dei mostri, dovrebbero essere invece importanti da questo punto di vista, secondo me la serie ha troppi pochi pregi rispetto ai difetti, diciamo così, che possiamo dire, a quello che, almeno per quello che mi compete, per quello che ho visto io, insomma, io li amo questi mostroni, ho mille action figure di Godzilla, ho tutti i film in Blu-ray, quindi mi piacciono, anche quando non sono così belli, ma a sto punto preferisco che mi guardo Megagozilla, diciamo così, che peraltro qui c'è pure l'Apex, l'Apex, l'Apex che poi potrebbe essere costruita Megagozilla attraverso il DNA di Ghidura, piuttosto che tre ore di gente che non ci interessa, che hanno i problemi familiari, e di cui sì ci interessa, ma relativamente, ok? Ripeto, ciao a tutti, scusate se mi sono dilungato questo ultimo pezzettino, ci vediamo alla prossima, sotto nei commenti, fatemi sapere voi cosa ne pensate, se l'avete vista o non l'avete vista, insomma, eccetera, ecco, ok? Io l'ho vista, e insomma, così è così, ciao a tutti.